Riemergere dall'emergenza, questo il progetto della provincia di Pescara che è rivolto ai comuni, gli amministratori e le associazioni che operano proprio nella provincia, nei comuni del Pescarese. Come è nata questa idea, Presidente? È nata perché ho conosciuto, ho avuto il piacere di conoscere la dottoressa Irene Menis, il quale ci ha proposto questo tipo di controllo dello stress e abbiamo occolto l'occasione proprio per proporlo ai colleghi sindaci e a tutte quelle persone, quelle figure che hanno collaborato con loro durante il lockdown e sono stati sottoposti ad uno stress molto, molto, un carico di stress molto, molto importante. La proposta che abbiamo fatto alla provincia di Pescara è di mettere a disposizione degli strumenti pratici, concreti, efficaci che ciascun individuo che si trova a gestire un'emergenza può usare nel quotidiano, sia mentre l'emergenza è in corso che a posteriori o per prevenire il proprio atteggiamento, perché lo stress sappiamo che riduce la nostra prestazione, lo sperimentiamo tutti e tutti i giorni ed è molto semplice, se abbiamo degli strumenti adeguati, cambiare questa nostra prestazione e la nostra percezione della situazione affinché veramente possiamo essere il meglio in ogni situazione. Questo progetto si potrà articolare in vari modi a secondo di quello che sarà la responsività del territorio. Noi abbiamo diversi filoni che possiamo esplorare, sia dal punto di vista della formazione, quindi mettere le persone che sono in prima linea, ma non solo loro, perché tutti in qualche modo siamo in prima linea, quindi metterli a disposizione dei momenti di formazione in cui loro sono in grado di apprendersi degli strumenti di base per autogestirsi nelle situazioni di difficoltà e allo stesso tempo possiamo mettere a disposizione dei momenti di consulenza per risolvere degli aspetti contingenti, sia in ambito dell'amministrazione pubblica, sia in ambito delle imprese, sia nell'ambito dei servizi.